Sicuramente la regione Campania è una realtà che ha storicamente delle criticità. Sul Lazio non c'è nessuna procedura aperta e questo non significa che non dobbiamo continuare a monitorare tutte le regioni che si trovano in una situazione di difficoltà e sicuramente il Lazio è tra queste. Sulla Campania abbiamo fatto presente come ci siano stati dei notevoli progressi sul fronte della raccolta differenziata, come alcuni impianti seppur con ritardo stiano partendo e come sia fondamentale comunque continuare a finanziare gli impianti che partiranno e mi pare che su questo abbiamo avuto un riscontro positivo.